... Esattamente in questo punto, circa un anno fa, l'11 ottobre 2013, fu ucciso Guido Garzillo. Un omicidio ancora irrisolto e che approda alla RAI e lo fa attraverso la redazione di Agro24. Alle mie spalle la direttrice di Agro24, Tiziana Azzurro, sta ricostruendo insieme alla RAI quei momenti terribili. Tra poco raggiungeranno nell'abitazione, qui sopra alle mie spalle, la madre di Guido Garzillo, la cui voce finalmente raggiungerà tutto il territorio nazionale. Signora Bianca, l'omicidio di Guido è un omicidio ancora irrisolto. Lei ha bussato a tutte le porte e finalmente è arrivata alla RAI. Quale sarà l'appello che lancerà venerdì? L'appello che io lancio venerdì è che voglio aiuto. Mio figlio era un figlio dell'Italia, non un figlio del sud. Non abbiamo un'Italia divisa ed è giusto che mio figlio abbia giustizia. È un anno, io ancora non so che cosa ci è successo. Si sono interrotte le nostre vite, però ancora oggi non so. So di sicuro che qualcuno sa, qualcuno ha visto, parlasse. E innanzitutto, come ribadisco sempre, permettere questa persona in condizioni di non nuocere più e non permettere più che una mamma pianga come sto piangendo io. La mia vita e la vita dei miei figli, della sua fidanzata, è interrotta. Giustizia chiede il mio cuore, giustizia mi grida, mio figlio dall'alto. Giustizia. Qualche giorno fa la trasmissione Storie vere di Rai 1, condotta da Eleonora Daniele, ha contattato la nostra redazione di Agro24 per mettersi in contatto con Bianca Garzilo e per coinvolgerci nella ricostruzione degli avvenimenti relativi all'omicidio del figlio Guido. Ricordiamo che il giovane fu praticamente freddato da alcuni colpi d'arma da fuoco un anno fa, l'11 ottobre 2013, anno c'era inferiore sotto la sua abitazione. Quasi un anno è trascorso e ancora non ci sono risposte. Non si sa chi abbia esploso quei colpi e non c'è ancora un movente. Bianca però non si ferma ed allora ha sempre bussato a tutte le porte per conoscere l'assassino di suo figlio. Oggi la donna potrà raccontare questa terribile storia alle telecamere di Rai 1, con la speranza di scoprire la verità sull'uccisione del giovane figlio. Intanto i genitori di Guido saranno ospiti in studio della trasmissione di Rai 1 nella giornata di venerdì 10 ottobre.